Ciao, allora mi presento, io sono Enrico Spadafora Sono insieme a Manuel Mazzei, siamo gli ideatori, fondatori dell'Officina della Biomeccanica L'Officina della Biomeccanica nasce da un mio progetto molto vecchio Con Manuel siamo riusciti a combinare le nostre professionalità e a rendere possibile quello che era uno dei miei sogni L'Officina della Biomeccanica si occupa non solo di posizionamento in bici e di valutazione funzionale del ciclista Ma è un progetto a 360 gradi, ci occupiamo e vorremmo farlo sempre di più, sempre meglio Di movimento, di biomeccanica del movimento, legata soprattutto agli atleti ma anche alle persone comuni Ci è subito piaciuto il progetto della DRS Cycling del Presidente Davi E ci siamo lasciati coinvolgere molto volentieri Affiancandoli dal punto di vista non solo biomeccanico ma anche funzionale Quindi sottoporremo tutti gli atleti di questa nuova società a dei testi incrementali Dando loro la possibilità di allenarsi con dei valori molto precisi L'Officina della Biomeccanica nasce all'interno del mio studio di fisioterapia Dello studio FisioMess E proprio per questo riusciamo a dare ai nostri clienti, ai nostri atleti un approccio a 360 gradi Quindi valutiamo la loro postura, valutiamo la postura dell'atleta Riusciamo a farlo attraverso dei protocolli ben stabiliti E insieme a Manuel e attraverso la videoanalisi riusciamo a stabilire quello che è il gesto tecnico preciso Dopodiché siamo in grado di dare dei risultati alle risposte dei vari atleti Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!